Buonasera a tutti, gara appena terminata, questa sera ci eravamo quasi riusciti a portare a casa i tre punti ma purtroppo ci sono state delle disattenzioni difensive nella seconda parte della gara nel secondo tempo e l'abbiamo pagata, è peccato perché comunque la squadra è in crescita, è la seconda partita che non ottiene ciò che ha seminato, quindi stiamo giocando bene, la squadra sta crescendo però purtroppo non riusciamo a fare mai i tre punti. Il mister comunque a fine gara era abbastanza soddisfatto, ci tocca continuare a lavorare e aspettare i tre punti che se continuiamo comunque a giocare in questo modo prima o poi sono fiducioso che arriveranno. Grazie, buonasera a tutti, alla prossima. Una bellissima partita combattuta, finita 3-2, perdiamo 2-0 primo tempo, una bellissima prova di carattere da parte di tutta la squadra, bravi portieri perché anche il collega di là ha fatto molte belle parate e Lucas Caramal che ci ha risolto la partita ha contenuto la rabbia nei confronti, la sua rabbia esplosiva nei confronti dell'arbitro, prima con un rigore e poi con una punizione e poi con un tocco sottoporta di classe abbiamo portato a casa così la partita 3-2. Buona serata a tutti. Grazie. 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 Grazie.